A detta degli stessi leader democratici, Renzi, eccetera, le due forze che uscivano vincitrici dalle elezioni, che avevano la rappresentanza e il consenso popolare, qui invece fanno l'alleanza i perdenci, quelli che hanno perso... Vincitrici cosa? Che il PD ha preso più voti della Lega adesso, con tutto il rispetto, però è così, noi abbiamo più voti. Allora, io non interrotto, si risentono le dichiarazioni di Renzi e dei leader democratici, Salvini, che supera Forza Italia e che diventa il primo partito del centrodestra, è ritenuto, ripeto, non dal Mario Giordano, ma da tutti, compreso le dichiarazioni di Renzi, e uno dei due vincitori, Renzi... Un attimo, quarta pelle, quarta pelle. Ho assistito a tutte le sue prove olimpiche di arrampicata sugli specchi in devoto silenzio, mi lasci finire, io capisco che lei non è d'accordo, mi preoccuperebbe il contrario se lei fosse d'accordo. Ecco, allora, erano due forze che avevano vinto l'elezione, che avevano preso consensi nel Paese, qui invece è l'alleanza dei perdenti, che hanno perso tutte le elezioni e si alleano, che hanno paura del voto degli italiani. Allora, ci arriviamo tra poco a...